Guardate, sullo stadio il primo investitore, e Giorgio lo sa, che arriva a darci una mano sullo stadio, le porte di quegli uffici non è che sono aperte, sono spalancate, sono spalancate. Questo è stato un sogno che è stato possibile restituire la città, se stiamo uniti, forse riusciremo a portare a casa un sogno anche per il calcio.